Grazie a tutti 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 che è bello sentirsi parte di una grande famiglia, vedere tutte le poli sportive che erano presenti alla celebrazione e poi gli ho chiesto anche un pensiero su questa Lazio e sul fatto che non ci siamo qualificati e lui condivide un po' il punto di vista che per come sta la Lazio in questo momento forse un anno sabbatico ci può stare. Milano, grazie molto per venire con noi, spero di vincere in l'Olimpico per un altro gioco con molti fanci. No problemi. Un saluto, forza Lazio! Forza Lazio, ciao! Ah, che bella sensazione! Forza, fantastico sensazione, incredibile! Paolo, sorry, I have to interrupt you because Zequipola, he says, I absolutely have to say a big hello from everyone at Nimbusco Plavi. Please, please, please. We've got a few of them online tonight. We had Milan as well talking to us earlier. . . Grazie a tutti